Ieri sera, poco dopo le 11, questa bambina è stata lasciata in questa struttura che voi sapete essere adiacente alla maternità di Careggi e dedicata alla possibilità per le mamme o le coppie in difficoltà di lasciare il bambino qualora non avessero la possibilità di tenerlo. Dicevo, poco dopo le 11 la bambina è stata lasciata in questa struttura e i sistemi che automaticamente avvertono chi è di servizio in neonatologia si sono prontamente attivati. Quando abbiamo verificato che effettivamente ci fosse stata lasciata una bambina, in pratica il collega di guardia insieme a un infermiere si è subito recato in questo piccolo edificio e una volta che ha constatato che la piccola era in buone condizioni generali l'hanno subito portata nel reparto di cura. In linea di massima riteniamo che sia nata ieri, ovviamente non sappiamo dove sia nata. la bambina aveva una tutina, era avvolta in una copertina, era tenuta sostanzialmente bene, non aveva nessun segno di malessere e fino a quel momento ritengo che sia stata trattata nel migliore dei modi. Il vero must è quello di usare queste occasioni per ribadire, perché già si sa, alle mamme in difficoltà, le coppie in difficoltà che possono partorire in assoluto, anonimato, in ospedale e in assoluta sicurezza per la mamma e per il bambino. Il vero must è quello di usare queste occasioni per la mamma e per il bambino. Il vero must è quello di usare queste occasioni per la mamma e per il bambino.